gentili telespettatori buona giornata i numeri al senato sono così pochi per la maggioranza così viene definita anche se non lo è non è maggioranza assoluta al senato non è maggioranza nel paese ma i numeri sono così piccoli che giovedì al senato non mercoledì perché è stata spostata di 24 ore la discussione al senato di bonafede sulla giustizia sulla riforma della giustizia proprio per cercare per avere 24 ore in più per per cercare mercenari per convincere dei mercenari che loro chiamano addirittura dei costruttori costruttori del loro futuro del loro stipendio ecco forse questo era il motivo del perché li hanno chiamati costruttori si chiamerebbe governo di salvezza nazionale attenzione ma non sarebbe altro che un conte terzo basato su una maggioranza allargata a pezzi dell'area moderata del centrodestra e di cui farebbe parte anche renzi e questo è il progetto a quale si lavora da alcuni giorni e sul quale si attende per oggi il risponso del premier che dovrebbe sciogliere la riserva e decidere se salire al quirinale per formalizzare la crisi prima del voto in parlamento sulla giustizia quindi attenzione si apre un nuova ipotesi quindi governo di salvezza nazionale che paroloni è insomma governo di salvezza nazionale quindi sempre conte in versione nuova ma maggioranza allargata a pezzi dell'area moderata e del centrodestra ma quali sarebbero i pezzi del centrodestra vediamo se abbiamo qualche informazione in più beh conte dicono non avrebbe tante alternative almeno forse è solo questa quella che gli hanno proposto i partiti di maggioranza bene intanto una sconfitta giovedì al senato indebolirebbero ancora di più un governo che è già debole di suo dai conti fatti proprio ieri che abbiamo fatto su questo canale il rischio è che opposizione formata da centrodestra più renzi abbia 158 voti al senato e la maggioranza tra virgolette senza i senatori a vita senza i senatori a vita i tre che hanno portato a votare lì per la fiducia a conte scenderebbe a 153 quindi 158 le opposizioni 153 il governo forse 152 perché casini dice che non so se lo voto forse 151 perché lei di mastella non ha intenzione forse di votare perché non ha ricevuto probabilmente è un'offerta reale per continuare a votare per conte è tutto a un prezzo cari miei e quindi potrebbe finire 158 151 per le opposizioni capite che è inaccettabile quindi vogliono risolvere tutto prima del voto in senato in modo che se nasce un altro governo in senato poi i voti ci sarebbero e come secondo questa nascita di un governo di salvezza nazionale bene dicevamo conte sembrerebbe non avere alternativa i no come dicevamo preannunciati da casini nencini e leonardo nei confronti di di bonafede oltre a esprimere una linea garantista sono una forma di pressione sul premier per indurlo ad accettare il progetto quindi addirittura si scenderebbe a 150 sì a bonafede contro 158 perché si aggiunge anche nencini che passa questo progetto per l'apertura formale della crisi bene parliamoci chiaro la crisi ufficiale viene aperta quando un premier dalle dimissioni dalle dimissioni alla risoluzione della crisi alla risoluzione appunto quella è la crisi di governo noi siamo qua prima della crisi è una pre crisi una crisi informale ma non è quella ufficiale non è quella ufficiale bene l'operazione prevede che conte dopo le dimissioni rivolga un appello a tutte le forze politiche affinché collaborino è un governo di salvezza nazionale dando per scontata la contrarietà di lega e fratelli d'italia dovrebbe invece materializzarsi l'appoggio al progetto dei centristi in attesa che anche un pezzo di forza d'italia desirisca più o meno è lo schema che franceschini aveva esposto giorni fa in una intervista più o meno è quello che salvini melione italiani avevano anticipato a mattarella al quinale e cioè che la maggioranza lavora a scardinare i partiti di opposizione bene ma siamo sicuri che la lega non sia per un governo di salvezza nazionale all'interno della lega il numero due giorgetti amico consigliere personale del capo della lega salvini ha da tempo avviato un'opera di convincimento del capo della lega per un governo di salvezza nazionale che possa sdoganare la lega in europa farla apparire di più in un certo modo in modo da prepararla a governare in un futuro salvini è in mezzo perché abbiamo la meloni che dice no a un governo di salvezza nazionale berlusconi che dice sì la lega all'interno salvini a volte a volte dice meglio il voto però un governo di salvezza nazionale vediamo perché c'è la pressione forte di giorgetti nel convincerlo che sia meglio lasciar perdere fratelli d'italia e concentrarsi nel governo di salvezza nazionale che farebbe bene alla lega se dice dice così giorgetti inizialmente la lega potrebbe perdere dei voti per fare un governo di salvezza nazionale ma li va a recuperare col tempo voi siete sicuri che quei voti persi dove andrebbero i voti persi della lega allora l'elettore della lega scontento che la lega si mette a fare un governo con gli altri di centrosinistra l'elettore andrebbe matematicamente in fratelli d'italia e continuerebbe il travaso di voti anzi forse accelererebbe ma secondo giorgetti e alla fine tornerebbero voti più di prima io non sono convinto di questo non sono convinto di questo non ne sono convinto l'elettore che va con la meloni molto probabilmente non torna più indietro almeno questa è la mia valutazione personale posso anche ovviamente sbagliarmi sono un opinionista sono opinioni io vi ringrazio per avermi ascoltato e andiamo avanti su questo tema tra tra 20 minuti con l'altro video e arrivederci a tutti